buonasera benvenuti bentornati a cuscito ergo zoom mi sentite si sente l'audio si vede il video attendo conferma perché io non ho il ritorno intanto buonasera e ben ben ritrovati una sera bimbo se non buonasera a tutti e cosa antonio regliano mi vedete si sentite soprattutto si mi sa che audio perfetto si sente si vede allora adesso farò un esperimento per cortesia se si vede tutto preciso senza sbavature io avendo la presentazione a tutto schermo non ho modo di sapere se allora ho cliccato adesso vediamo se va intanto grazie per essere arrivati anche numerosi insomma questo video si è fatto attendere perché l'argomento si è mostrato molto più complesso del previsto c'è un sono studiosi che ho scoperto nel frattempo che ci sono studiosi che si occupano da anni proprio solo di questo quindi mi sono impelagato in un argomento molto più appunto come ho detto più complesso di quello che allora si no vedo vedo l'anteprima si sembra tutto sembra tutto in ordine benissimo benissimo allora quindi stasera finalmente parleremo come avevo annunciato ormai mesi fa di heinrich schliemann sottotitolo il mito e la storia e questo titolo può significare o significare due cose può significare sia riferito sia a schliemann stesso ciao cosa sapere a te youtube ciao fabrizio allora si dicevo che si riferisce il sottotitolo il mito e la storia sia a schliemann stesso che ha creato su di sé un mito a cui hanno creduto all'inizio i suoi biografi anche quelli accademici e adesso ormai gli accademici come vedremo hanno preso hanno un po preso le distanze da questo mito che lui aveva creato su di sé però gli pseudostorici ancora credono a questo mito e poi il mito e la storia si riferisce anche al rapporto che c'è tra l'iliade come fonte quindi testi narrativi e la storia quindi quanto c'è di vero nell'iliade e quanto c'è di storico nell'iliade perché schliemann è spesso usato dagli pseudostorici come esempio di quello che è andato contro il mondo accademico e che ha creduto fortemente nella veridicità dei testi narrativi in questo caso nei testi americi e che quindi avrebbe dimostrato secondo gli pseudostorici che il mondo accademico ancora una volta è chiuso e roccato nelle proprie posizioni e poi ci sono quelli aperti di mente come schliemann e invece hanno dimostrato che hanno il coraggio basta avere il coraggio di credere nei testi antichi per riscrivere la storia ecco allora ho scoperto in questi mesi che le cose non stanno affatto così niente di tutto quello che vi ho appena detto è vero nel senso di niente di tutto ciò che dicono gli pseudostorici riguardo a schliemann è vero è tutto falso e quindi come ci accingiamo subito senza perdere ulteriori tempo perché le diapositive insomma sono parecchie e abbiamo insomma sarà lunga quindi tra l'altro come le altre volte per chi non sopporta il modo di parlare perché si sente torturato o devastato cito testualmente dal mio modo di parlare ho scritto tutto una sintesi di quello che sto dicendo in questo video l'ho scritto sul mio blog ho messo già il link in descrizione quindi per chi non volesse ascoltare può comunque leggere però non ho nel blog non ho messo tutti i documenti che mostrerò oggi in video per cui dovrò al massimo fare qualche ferma immagine del video se vuole leggere i documenti bene 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 allora ecco come dicevo schliemann secondo gli pseudostorici sarebbe stato il primo ad aver creduto l'esistenza della città di troia sarebbe stato il primo ad aver scavato tutto il mondo accademico gli avrebbe remato contro e sarebbe quindi un esempio da seguire perché avrebbe dimostrato che i testi antichi sono affidabili il mondo accademico sarebbe chiuso e dogmatico e chiuso quindi nei confronti della novità e che il suo metodo consistere di credere i testi antichi potrebbe portare a riscrivere la storia mi confermate che adesso state vedendo la seconda diapositiva cortesemente e qui vediamo un fotogramma di un video che è uscito in tempi non sospetti nel senso che io mesi avevo già anticipato che avrei fatto un video su schliemann poi nel frattempo un pseudostorico ha fatto un video di risposta a pier giorgio di freddi che pier giorgio di freddi praticamente diceva ok vedo dei commenti perfetto si vede o di freddi diceva che non ha senso per lui prendere dei testi mitopoietici che creano dei miti e non ha senso prenderli come fonti scientifiche e questo pseudostorico in risposta ha fatto questo video reaction praticamente in cui ha scritto per fortuna per fortuna è esistito schliemann perché appunto come ho detto avrebbe dimostrato che invece è giusto credere ai testi antichi allora intanto anticipo le conclusioni per chi non volesse vedere questo video che si preannuncia lungo come vedremo nel corso di questo di questo video è stato schliemann prima di tutto ad aver costruito un mito attorno a in sé mentendo ingigantendo i fatti o plagiando addirittura gli scritti e le scoperte altrui questo mito è stato preso per vero dai primi biografi e invece poi tra l'altro la storia di schliemann ci insegna che il mondo accademico nel frattempo ha rivisto le sue posizioni perché come dimostra william calder è stato il primo studioso ad aver dubitato ecco della narrazione che dava schliemann di se stesso e che è stata accolta ciecamente dagli studiosi dicevo come dimostra william cal calvert e anche david trail che ha scritto questo libro su cui mi sono basato il mondo accademico nel frattempo ha rivisto le sue posizioni riguardo a schliemann non lo ritiene più non crede più a alcune cose che a lui stesso ha detto di se stesso mentre gli pseudostorici come dicevo sono ancora fermi a vecchie posizioni che gli accademici ormai hanno abbandonato per esempio una del ho fatto già un esempio che di dogma paleastronautico secondo cui la bibbia sarebbe una copia di testi sumeri anche in questo caso era una posizione che il mondo accademico aveva aveva avuto per un breve periodo credo per un paio d'anni come diceva il dottor ceccarelli però nel frattempo il mondo accademico ha abbandonato questa posizione una volta studiati meglio i testi sumeri ci si è accorti che in realtà dire e chiamare copia dei testi sumeri la bibbia era abbastanza un'esagerazione era una grossa imprecisione era di fatto sbagliato però come in questo caso quindi il mondo accademico ha avuto una posizione poi l'abbandonata mentre gli pseudostorici sono rimasti a delle posizioni accademiche vecchie però le coltivano perché fanno comodo un po alla loro la visione del mondo niente scopriremo che come mostrerò alla storia di schliemann raccontata dagli pseudostorici è totalmente inventata cioè veramente niente di tutto quello che ha detto prima riguarda schliemann è vero e anche se per assurdo fosse vera tutta la favola per come la raccontano gli pseudostorici ciò non rende automaticamente vere le teorie pseudostoriche che vengono vendute a un pubblico ignaro cioè anche se fosse tutto vero cosa che non è ciò che dicono gli pseudostorici su schliemann dire per fortuna esistito schliemann anche se schliemann avesse avuto ragione all'epoca e chi ha detto che tu pseudostorico di oggi abbia ragione è una sorta di appello all'autorità di siccome ha avuto ragione lui allora ho ragione anch'io non è un ragionamento che non sta in piedi neanche se si accettano tutte le premesse che ripeto sono sbagliate e ancora una volta insomma ciò che rende valida un'ipotesi sono le prove quindi non il fatto se sei un accademico meno e neanche il fatto che solo perché sei criticato dagli accademici già non vuol dire che tu abbia ragione la storia di schliemann non dimostra affatto che è giusto fidarsi ciecamente delle fonti ma dimostra proprio il contrario perché le fonti siano essi testi antichi siano anche i testi contemporanei gli studi la cosiddetta letteratura secondaria vanno analizzate tutte in modo critico con un distacco critico altrimenti si sbaglia come hanno sbagliato i primi biografi e gli pseudostorici non avendo prove si aggrappano a qualsiasi pretesto veramente si arrampicano sugli specchi come dicono come amano dire loro stessi nei confronti degli altri e soprattutto questa storia insegna che per dire una baggionata ci vogliono pochi secondi per smontarla invece ci vorrà il tempo che ci vorrà in questo video allora il metodo usato è quello di andare quanto più possibile alle fonti quindi ho usato i diari le lettere quindi mi sono procurato addirittura l'epistolario di schiliman una piccola parte delle pistolari di schiliman che in realtà sono le lettere si contano nel in diverse migliaia 10.000 se non di più perché sono solo una piccola parte delle lettere fondamentale è stato allora adesso vedo se fondamentale è stato ecco qua fondamentale è stato questo testo schiliman of troy di david trail che insomma è stato un po quello che più di tutti mi ha ho seguito e poi ci sono i primi studi fatti da uno studioso che citavo william calvert che è un titolo molto molto emblematico insomma schiliman su schiliman uno studio sull'uso delle fonti sì quindi questi sono poi altri che ho segnalato in bibliografia quindi per chi volesse approfondire anche se non sono di facile non sono facilmente reperibili però o comunque le fonti usate sono quelle sono andato il più possibile alle fonti allora poi allora torniamo quindi alla presentazione quindi sì le fonti primarie che ho usato sono una autobiografia di schiliman curata dalla moglie ed edita almeno ho usato un'edizione del 55 poi un libro scritto da schiliman ilios la città e la terra di troiani il l'epistolario che vi ho mostrato poi i ricordi quindi altri altre fonti bibliografiche poi quando è possibile non riuscito a consultare dei quotidiani dell'epoca non sono riuscito a trovare delle edizioni vecchie insomma delle vecchie edizioni del guardian dove frank calvert di cui parleremo dopo quindi un archeologo parla di schiliman insomma una fonte contemporanea che analizza il lavoro di schiliman uno che l'avevo conosciuto anche di persona tra l'altro e poi vabbè gli studi precedenti perché rimando in bibliografia allora mi confermate nel frattempo che adesso vedete la cartina allora quindi brevemente una breve biografia di schiliman lui nacque nella città di noibokov come potete vedere lì che si trova se vedete la cartina però nel nord della germania praticamente vicino all'olanda insomma vicino a danimarca nacque ormai 200 anni fa non ebbe mai un'istruzione formale ma imparò comunque molte lingue questo gli va gli va dato merito di aver imparato con molta facilità molte lingue si vede dai diari stessi o dalle lettere lui quando andava in grecia dopo qualche settimana cominciava già a scrivere nel suo diario in greco o scrivere lettere in greco imparò il russo ovviamente l'inglese anche l'italiano a quanto pare il francese comunque veramente aveva aveva una propensione per le lingue veramente notevole questo va detto perché siccome in questo video dirò peste corna di lui ma comunque insomma bisogna anche avere una certa obiettività e sì intanto lui all'inizio è un mercante lavora come mercante prima in Russia a San Pietroburgo dove entra in contatto con l'altra società anche quella colta e quindi cerca di in tutti i modi di far parte di essere accettato da queste persone poi sì nel 1851 arriva in California e apre una banca poi la vende un anno dopo ritorna in Russia e si sposa con una donna del posto nel 1858 si arricchì così tanto commerciando spezie o tra cui l'indaco o sostanze chimiche tra l'altro ci fu anche la guerra di Crimea per cui queste sostanze che venivano usate anche per polvere da sparo per altri insomma per fini bellici gli permise di guadagnare una ingente quantità di denaro e praticamente di vivere di rendita da quel momento quindi stiamo parlando del nel 1858 a 36 anni essendo nato nel 22 all'età di 36 anni era riuscito è stato insomma va riconosciuto che era riuscito a essere così ricco da poter dedicarsi a tempo pieno agli studi quindi dieci anni dopo visita la Grecia il Pelloporneso e ovviamente la città di Troia nel 69 ottenne un dottorato per i suoi studi su Troia quindi tra l'altro plagiando un autore vabbè vedremo che questo è solo una delle poche truffe che ha messo in piedi sì si sposa in seconde nozze con Sofia e nell'870 873 i primi scavi a Hisar Lec pubblicati nel 1864 quindi lui è questo il periodo in cui si dice che in cui insomma ha scoperto la città di Troia bisogna vedere se sia davvero quella o no certamente non era quella omerica perché la città e il sito è molto presenta diversi strati credo almeno sette comunque diversi strati che mostrano che risalgono ovviamente epoche molto diverse e quella in cui ha scavato lui non è cronologicamente compatibile con quella di Omero ma questo è solo uno dei po' l'ultimo dei problemi poi nel 76 scava Micene quindi non più lì a Troia scopre questa presunta maschera di Agamennone anche lì non ci sono nessuni non c'è nessun dato oggettivo che colleghi quella maschera veramente ad Agamennone e poi dopo ulteriori scavi e poi il 26 dicembre muore per una infezione all'orecchio interno per una operazione chirurgica non curata gli era stato ordinato tra l'altro di rimanere in clinica invece lui uscì prima del previsto con le ferite ancora aperte e quindi si infettò e l'infezione arrivò al cervello e morì a Napoli o su Via Toledo o su una traversa insomma le fonti sono discordanti su quello però comunque muore allora buonasera a tutti quelli che sono arrivati nel frattempo ah ecco Daniele Cerullo sono nove strati divisi in 46 insediamenti addirittura grazie Daniele Cerullo e tra l'altro come vedrete in questo video non mi soffermerò tanto sugli aspetti archeologici su cui non ho competenze quindi rischierei di dire rischierei di dire appunto bagianate di fare il suo storia a mia volta quello che mi preme sottolineare in tutto questo è l'uso che ne hanno fatto gli pseudostorici da parte di Scime allora questi sono i fatti in realtà molti altri prima di lui credevano all'esistenza della città di Troia e quindi smontiamo già il primo mito questi sono una serie di nomi che ho già fatto in realtà in un'altra live in cui ho trattato questo argomento in modo molto più breve però c'è gente che è nata è vissuta addirittura più di un secolo prima che Schliemann nascesse quindi abbiamo diversi nomi e tra cui quello l'ultimo è quello di Frank Calvert che vi ho menzionato prima allora di questi studiosi di queste persone che credevano nell'esistenza della città di Troia che vedete lì Sarlec sulla destra sulla mappa gli ultimi quattro dicevano che la città si trovava proprio lì dove in effetti Schliemann ha scavato quindi non è vero che lui fu il primo a credere all'esistenza di Troia non è neanche vero che lui fu quello che decise di trovare il posto di scavare nel posto giusto perché sette anni prima di Schliemann c'era già Frank Calvert l'ultimo della lista che ho menzionato che aveva già cominciato a scavare proprio lì proprio cercando la città di Troia quindi già smontiamo questi fatti insomma no questi fatti queste bagianate queste affermazioni sbagliate lui spesso tra l'altro mostreremo che ha spesso mentito sia su di sé sia su altri eventi e i primi biografi purtroppo hanno sbagliato gli hanno creduto e hanno sbagliato allora per esempio qui da un testo dello stesso Schliemann di Itaca del Peloponneso e Troia ricerche archeologiche lui stesso ammette che c'era già Frank Calvert che stava scavando infatti se vedete nel punto 1 se non fosse no per delle fosse che l'ingegnoso Frank Calvert ha praticato in questa collina poi al passo 2 insomma dopo aver attentamente esaminato a due riprese tutta la piana sono condivido pienamente la convinzione di questo sapiente cioè di Calvert vedete il punto 3 che l'alto piano di Hisarlick è il luogo dell'antica Troia 4 nel frattempo lui fa tra il punto 3 e il punto 4 c'è una lista di studiosi che lui cita e vedete il punto 4 c'è scritto che riconoscono l'identità di Hisarlick con la collocazione di Troia quindi lui stesso nei suoi stessi scritti ammette che c'era già molta gente prima di lui che non solo credeva nell'esistenza della città di Troia ma che stava già scavando in quel luogo lì poi pian piano nei suoi scritti successivi comincia a menzionare sempre Frank Calvert però sempre più relegandolo in un ruolo di secondo piano fino a poi gradualmente a prendersi tutto il merito e dire di essere stato lui ad aver scoperto la città di Troia ad aver deciso che si trovasse lì quindi parliamo appunto del 1875 però invece questo nel 69 ancora quindi tra il 69 e il 75 Schliemann cambia pian piano versione attribuendosi dei meriti che di fatto non erano i suoi come è nata la leggenda e tanto per cambiare si tratta di una questione di metodo e come disse appunto come scrive William Calder che è stato il primo a inaugurare gli studi scettici su Schliemann se oggi uno studioso volesse scrivere una biografia di Cicerone userebbe naturalmente non solo le lettere private e le opere pubblicate dallo stesso Cicerone ma proverebbe inoltre a usare le fonti indipendenti in modo da corroborare confermare o smentire ciò che Cicerone potrebbe aver detto di se stesso e questo è il problema metodologico fondamentale per qualsiasi studioso che lavori sulla biografia di Schliemann perché tutte le biografie di Schliemann sono basate quasi interamente su documenti scritti dallo stesso Schliemann e in ordine di importanza questi sono un'autobiografia in diverse versioni 18 diari e circa ecco 60.000 lettere ben più di 10.000 60.000 lettere quindi la leggenda è nata per un errore di fondo fatto dai primi biografi che si sono fidati ciecamente di quello che lui diceva su se stesso ma come vedremo era l'ultima persona di cui io mi fiderei ecco allora per esempio uno dei punti fondamentali è quello secondo cui Schliemann avrebbe sempre creduto all'esistenza della città e avrebbe sempre voluto scavare per scoprire la città di Troia e racconta questo episodio a sinistra vediamo la versione originale del suo Ilios e a destra vediamo la traduzione italiana che ringrazio ringrazio allora Alex Vannini per avermi mandato gentilmente molto gentilmente una copia di questo libro ormai introvabile che si chiama L'oro di Troia la vera storia del tesoro scoperto da Schliemann che racconta proprio la storia del tesoro non tanto di Schliemann in sé ma proprio del tesoro di tutte le vicissitudini che ha attraversato che è stato praticamente contrabbandato dall'attuale Turchia alla Grecia e poi in Germania poi è finito in Russia e poi insomma ha fatto una serie di giri però anche questo testo riporta l'episodio dell'autobiografia di Schliemann che dice che quando nel Natale del 1829 aveva allora quasi otto anni il padre gli regalò la storia universale per ragazzi del dottor Georg Ludwig Jeller trovai dice Schliemann l'incendio di Troia con le mani mura le porte ed Enea fuggiasco che portava sulle spalle il padre Anchise e per mano il piccolo Ascanio allora con un grido di gioia dissi padre ti sei sbagliato Jeller deve aver visto Troia altrimenti non avrebbe potuto illustrarla figlio mio rispose questa è pura immaginazione quando però gli domandai se Troia avesse davvero posseduto mura così gigantesche come quelle illustrate egli annui allora dissi padre se tali mura sono realmente esistite non possono essersi dissolte ma certamente giacciono sotto polvere detriti secolari egli sostenne logicamente l'opposto ma io restai dalla mia convinzione e alla fine stabilimmo che un giorno sarei andato a scavare l'antica Troia allora questo qui è un'autobiografia che lui ha scritto nel 1880 quindi ovviamente dopo aver scoperto Troia però in realtà in tutti i testi che ha scritto abbiamo visto che ne ha scritti parecchi tra diari lettere non c'è nessunissima traccia di questo episodio in tutti i testi che lui ha scritto prima di aver scoperto Troia quindi è una evidentemente un mito che ha creato su di sé dopo aver scoperto la città perché il primo riferimento a quel libro appare in una lettera del 1875 quindi già dopo i suoi scavi e quando si stava difendendo dalle accuse che gli avevano fatte dei suoi contemporanei di andare solo in cerca di fama e denaro quindi lui ha detto no io non sono non ho scavato in cerca di fama ma ho sempre creduto in questa nell'esistenza di questa città ho sempre avuto questo sogno sin da bambino in realtà quando era bambino tra le altre cose l'archeologia era agli albori e nessuno sognava di fare l'archeologo probabilmente era e non era un po' come adesso l'astronautia è come se uno negli anni 20 avesse detto di aver sempre voluto fare l'astronauta quando ancora gli astronauti non c'erano o comunque agli inizi o invece gli anni 20 una decade in cui la ricerca spaziale era ancora agli inizi la sorella tra l'altro racconta che da bambino sognava di fare il marinaio tra l'altro in una lettera che vediamo qui pubblicata vediamo nell'immagine superiore dice verso la metà non ho segnato allora se lui immagina sogna nel quarto ultimo rigo una carriera più interessante che quella di un autore di libri seri quindi dice che il suo sogno è stato quello di scrivere libri non fa nessuna menzione della di essere un archeologo eppure sta parlando appunto di una di avere a che fare con la società geografica e archeologica di cui era ebembro come dice in questa stessa lettera al quarto rigo quindi tra l'altro altro altro argomento che va un po' a togliere dalla leggenda di Schliemann che ne danno gli pseudostorici l'archeologia l'archeologia accademica non era ancora così sviluppata in molti degli archeologi tra cui lo stesso Calvert che scaverà prima di lui molti di questi erano persone come lui erano ricchi mercanti o gente molto 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 benestante che poteva permettersi di andare a scavare l'archeologia accademica ancora non era sviluppata non era così come la conosciamo oggi quindi anche qui fare la distinzione tra archeologo accademico e non accademico è un anacronismo per l'epoca non ha molto senso fare questa distinzione così netta quindi sì come dicevo non c'è nessun testo scritto da lui prima della scoperta non c'è nel suo diario americano questa menzione di questo episodio di lui che sin da piccolo voleva fare l'archeologo e nella prefazione al suo libro che poi gli valse il dottorato dice che il sogno di una vita era per lui l'aver visitato quei posti non scavato e qui vediamo appunto nella vi mostro proprio il documento quindi a sinistra vediamo che scrive ecco ero lontano da pensare alla fine del riquadro negli ultimi tre righe del riquadro a sinistra quello in rosso che ho fatto io sono ero lontano da pensare che 36 anni più tardi avrei avuto avrei offerto al pubblico un libro sullo stesso soggetto sullo stesso argomento quindi non dice che il suo sogno era quello di scavare anche a destra vediamo nel riquadro di destra ho sempre ho potuto infine realizzare il sogno di tutta la mia vita e visitare appunto il mio piacere il teatro di quegli avvenimenti che mi avevano tanto interessato e la patria degli eroi le cui avventure hanno affascinato e consolato la mia infanzia quindi anche qui non dice che aveva sempre sognato di scavare ma solo di visitare quei luoghi poi dopo che avrà scoperto la città cambierà versione ecco qua infatti questo libro questa fonte presa da un libro scritto dopo la sua scoperta allora dopo la sua scoperta dice che inviò all'università di Rostock un esemplare di questo lavoro insieme a una dissertazione scritta in greco antico ricevetti perciò il dottorato presso questa università è la traduzione del brano che vedete in alto in realtà lì non risulta nessuna dissertazione scritta in greco da Schliemann ricevetti il dottorato non per quello che scrisse in greco ma per il suo già citato libro che ho menzionato prima Itaca il Pelloponneso Troia ricerche archeologiche insieme a due autobiografie di otto pagine l'una una in latino e l'altra in greco e una lettera al decano quindi le sue cronache delle sue visite in quei luoghi gli valsero il dottorato non una dissertazione scritta in greco come dice lui nella sua autobiografia tra l'altro il professore di greco giudicò molto negativamente la sintassi dei suoi scritti in greco è tra l'altro una biografia di otto pagine peraltro scritte male come dice il professore e non è esattamente una dissertazione quindi vediamo che già Schliemann comincia a gonfiare un po' le sue credenziali accademiche anche qui questo ci trovo una certa un altro parallelo con gli pseudostorici moderni che prima disprezzano l'accademia però poi vengono o si atteggiano ad accademici o millantono addirittura del lauree che non hanno oppure si vanno a chiamare con titoli accademici che non hanno o chiamano altri amici loro con titoli accademici che in realtà non hanno quindi c'è capisco perché Schliemann possa piacere a queste persone perché hanno questa hanno parecchio in comune secondo me allora ecco uno dei punti in cui ha mentito spudoratamente è quello di come ha avuto la cittadinanza statunitense dice che si trovava in California nel 4 luglio del 1850 quando fu proclamata come stato per cui tutti in quel giorno divennero naturalizzati americani e quindi anch'io divenni cittadino americano come vedete questa è la traduzione del riquadro in rosso che ho segnalato nel sinistra che è preso dalla autobiografia di Schliemann questo dato fu ripreso da diversi biografi successivi e però Schliemann arrivò in California stando ai suoi stessi diari solo nel 1851 quindi un anno dopo quindi questo particolare totalmente inventato e tra l'altro fece domanda come risulta dai documenti indipendenti fece domanda per la cittadinanza a New York quindi non in California che praticamente da tutta la parte opposta degli Stati Uniti rispetto alla California e lo fece nel 17 febbraio del 1851 quindi dopo quando ormai la California era già parte degli Stati Uniti e lui stesso scrive nel suo diario nel 69 quindi nel 69 lui fece domanda nel 1851 quindi un anno dopo dell'anno in cui dice di averla ricevuta intanto fece domanda l'anno dopo e ottenne la cittadinanza nel 869 quindi parecchi anni dopo lo scrive nel suo diario con una breve nota I got today my paper as citizen of the US non si trovava in California ma New York quando ricevette la cittadinanza e la ricevette comunque diversi anni dopo che la California entrò a far parte degli Stati Uniti quindi gli piaceva abbellire la sua autobiografia e questo è niente che poi parla di una visita che avrebbe fatto alla Casa Bianca e allora se vedete dal paragrafo qui non l'ho segnato però dal terzo rigo tutto il paragrafo fino a 11 o'clock fino al capoverso successivo dice di aver incontrato il presidente aver descritto anche la moglie aver anche la figlia di 17 anni che sembrava piuttosto green non nel senso di letterale di verde ma nel senso di giovane appunto di fresca ecco buona pace di chi vuole tradurre sempre la lettera a tutti i costi e quindi dice poi che conversò amabilmente prima di poi prima che ci fu un evento di 800 persone cui poi il presidente dovette presenziare però il problema è che lui all'epoca non era nessuno era un semplice mercante quindi perché un presidente avrebbe dovuto ricevere un anonimo commerciante tedesco tra l'altro questo evento non risulta in nessun giornale dell'epoca non l'evento degli 800 persone ma il colloquio che ha fatto il presidente con Schliemann anche qui altre incongruenze ci sono per esempio nel punto vedete a sinistra nel punto 1 e il 13 alle 7 e mezza dice che alle 7 di sera 7 e mezza di sera andò al teatro e vabbè e trovò allora sì pagò per l'ammissione vabbè entrò si sedette e vedete nel punto 2 alla mia sinistra c'erano seduti due giovani spagnoli e impiegai tutto il mio potere di conversazione per carpire da loro il più possibile no le più informazioni possibili quante più informazioni utili possibili circa questo paese e il modo del suo governo insomma su come viene governato e poi vabbè con loro non non ha molto successo perché lui insomma dice che erano praticamente ignoranti e tutto quello che poteva capire da loro è che c'è un presidente a capo del governo che questo scusate il paese è diviso in circa 30 province e che ogni provincia manda due rappresentanti e un senatore al congresso che ha luogo ogni anno una volta all'anno a Bogotà e dura tre mesi quindi lui a teatro alle sette e mezza importante quindi la sera per informarsi sulla politica sul governo di Panama chiede a due tizi che erano a fianco a lui allora che c'entra qualcuno potrà dire vabbè che c'entra Bogotà con Panama questa volta non ha mentito perché all'epoca di Schliemann Panama era unita alla Colombia e nel 1821 Panama divenne indipendente dalla Spagna e fu annessa alla Colombia e si separò divenne indipendente nel 1903 quindi all'epoca del viaggio di Schliemann nel 1851 era effettivamente una sola un solo stato ecco e quindi la sera del 13 marzo quindi ci sono altre incongruenze come dicevamo la sera del 13 marzo del 1851 alle 7 e mezza dice che ha chiesto a questi due tizi del teatro informazioni sull'organizzazione statale di Panama il 16 marzo il giorno 16 marzo lui torna indietro e dice aggiunge nel suo diario ah ho avuto una lunga chiacchierata col governatore di Panama perché non lo menziona il 13 perché lo va a scrivere il giorno 16 ah guardate che a proposito mi sono ricordato che tre giorni fa ho parlato con il presidente poi se davvero incontrò il governatore prima che bisogno c'era di chiedere a due spettatori del teatro informazioni sull'ordinamento dello stato ripeto questo avveniva la sera quindi se l'ha incontrato prima che senso aveva chiederlo dopo a loro come era ordinato lo stato poi ricorda con precisione tutti i dettagli ecco perché vedete qui scrive dettagli anche di quando pagò prima vedete il punto 1 il prezzo lui segnava tutto segnava tutto però anche minimi e particolari però dimenticate questo dettaglio minuscolo di aver parlato con il governatore di Panama probabilmente in realtà ha preso dei delle notizie prese dai giornali e le ha arricchite un po' come ha fatto con la questione della cittadinanza americana per credere di essere stato protagonista della storia quindi questo tenete presente che stiamo ancora parlando ovviamente prima del suo ritorno da questa parte dell'Atlantico quindi ancora non aveva scoperto nulla ancora faceva il commerciante e però traspare una voglia di sentirsi protagonista della storia si vede proprio anche nei suoi stessi diari cioè mentiva anche a se stesso altro esempio che ha totalmente inventato che ha evidentemente letto dai giornali di cui si è reso protagonista a posteriori è quello di un incendio in California che lui dice allora vedete proprio la prima 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 riga San Francisco 4 giugno del 1851 dice che lui era arrivato a questo hotel l'Union Hotel aveva appena dormito da un quarto d'ora poi quando fu svegliato dalle grida a fuoco al fuoco e lui uscì poi vide vabbè non vi sto qui a raccontare tutto non ha molto senso comunque lui racconta con minuzia di dettagli dove rimase per la notte dove insomma tutta l'agitazione delle persone descrive la scena in modo molto molto minuzioso con dettagli molto particolareggiati il problema però che stando al suo stesso diario questo è nella nella autobiografia ma nel suo stesso diario il 4 giugno lui si trovava da un'altra parte e tra l'altro come risulta invece dalle fonti indipendenti l'incendio avvenne a maggio quando lui non c'era non era in America stando ai suoi stessi diari quindi si è inventato anche quest'altro episodio così giusto per sentirsi protagonista probabilmente poi tra l'altro ci sono altri episodi per esempio quello che durante un naufragio dopo che affondò un traghetto tutti lo riconobbero perché era quello l'unico la cui valigetta la cui valigia si era salvata nel disastro così particolare e soprattutto però quando lui faceva il commerciante in America nel 1851 fu accusato di aver truffato perché lui aveva degli affari con un agente di commercio della famiglia Rothschild che lavorava per la famiglia Rothschild che lo accusa di avergli mandato più volte del minerale quindi metalli preziosi in quantità minori inferiori rispetto a quelle dichiarate lui si vede nelle lettere che accampa delle scuse dice no avevo la febbre cose così insomma inventa delle scuse banali poi comunque la gente non vuole più avere a che fare con lui e nel diario tra l'altro si scopre che è una realtà diversa da quella che descrive nelle lettere perché nei diari proprio in quei giorni risulta che lui andava in giro tranquillamente quindi non era malato come diceva si prese anche una denuncia un'altra denuncia per frode a San Pietroburgo quando poi tornò nel frattempo in Europa il modo in cui prese la cittadinanza statunitense fu tramite una falsa testimonianza pur negando una cosa del genere nel suo stesso diario vediamo qui a destra una citazione dal suo diario vedete in alto New York 29 marzo diceva ho avuto oggi il mio documento come cittadino degli Stati Uniti visto che non si può ottenere nessun divorzio nello Stato di New York ad eccezione con un atto di adulterio mentre in Indiana dove si trova lui non è nessuna non è richiesta neanche una residenza precedente quindi lui è andato in Indianapolis e l'avvocato divorzista Peter Cook gli dice che c'è un avvocato divorzista scusate questo Peter Cook che gli è famoso per procurare dei divorzi in poche settimane attraverso falsi certificati e spergiuro lui scrive nel suo stesso diario quindi il pubblico era lui stesso dice noi non voglio avere ne a che fare con tali orrori però poi vediamo nella nota nella nota sotto che apparentemente invece lui era riuscito a circuire insomma bypassare come si dice il requisito della residenza perché lui non poteva non poteva stare lì non si trovava lì per tutto il tempo richiesto dagli atti quindi in realtà sullo stesso diario scrive di non voler avere niente a che fare però di fatto proprio anche incrociando i dati con i suoi stessi diari le lettere i suoi spostamenti ha evidentemente dichiarato il falso pur di avere un divorzio della sua moglie russa corruppe testimoni e tra l'altro tra alcune iscrizioni che Schliemann sosteneva di aver scoperto erano già conosciute da anni come ha dimostrato quest'autore greco in un suo articolo e poi sì leggiamo per esempio intanto ecco in alto vediamo una foto della tomba parte della tomba della madre di Schliemann che porta il nome in cima è quello di Henry Schliemann scritto all'inglese non Heinrich ma Henry quindi Henry Schliemann a San Pietroburgo la sua amata madre Louise Teresa Sofia Schliemann nata a Burger eccetera quindi mette il suo nome al di sopra di quella della stessa madre poi vediamo qui a sinistra nel diario di Schliemann proprio una foto presa dal diario di Schliemann se vedete nella penultima riga non della didascalia ovviamente ma proprio quella scritta da Schliemann c'è un 14 che in realtà copre un 9 lì c'era un 9 che era il numero degli oggetti che aveva trovato lui poi in un determinato strato poi quando trovò gli altri in un altro strato lui li aggiunse invece in quella quindi falsificò i rapporti degli scavi e a destra vediamo che una lettera ha una sua fiamma di gioventù che dice hai probabilmente ricevuto il mio Ilios se dovessi trovare che ho esagerato la nostra amicizia di 50 anni fa non devi offenderti e ascrivila semplicemente la mia vecchia devozione le circostanze si sono verificate in modo tale per cui tutte le mie disquisizioni possono solo offrirti il più alto onore e a tutte le donne della Germania sarebbe piaciuto essere rese immortali in questa maniera stiamo avendo la primavera più splendida e scrivo questa lettera in maniche corte con finestre e porte aperte quindi comunque diceva che non fa niente se ha mentito sulla loro amicizia sulla durata della loro amicizia però dice che le donne tedesche sarebbero state onorate di trovarsi al posto solo quindi di non prendersela se lui ha poi esagerato questo dato autobiografico quindi ammette di aver falsato la sua autobiografia però dice non anzi dovresti essere orgogliosa dice all'altro protagonista di questi eventi narrati e come era considerato Schliemann nelle fonti coeve ecco quindi la lettera di di Adolf Adolf Furtwengler che scrive a sua madre riguardo parlando tra le altre cose anche di Schliemann come era accolto nella archaeological society di Berlino la società archeologica di Berlino c'è una tremenda in senso positivo quindi c'è una incredibile formidabile ricezione di per Schliemann cioè tenuto in grandissima considerazione niente di meno lui è e rimane un essere umano mezzo pazzo e confuso che non ha assolutamente idea del significato dei suoi scavi Furtwengler a destra poi aggiunge conclude nonostante la sua passione per Omero Schliemann è fondamentalmente uno speculatore e un uomo d'affari e non potrà mai liberarsi di questo Theodor Wigand richiama la sua volgarità ricorda la sua volgarità tra l'altro un proposito di volgarità per esempio per esempio per segnalare che la festa una cena era finita chiamava il capo cavaliere gli chiedeva il conto e lo pagava davanti a tutti quindi era ritenuto un po' un cafone addirittura qualcuno come vedete sotto lo chiamava dogmatico quindi questo non è per fare del pettegolezzo è per dire che c'è del vero nel fatto che gli accademici deridevano Schliemann ma non è per il fatto che lui aveva deciso di scavare di trovare Troia ma era per altri motivi molto molto più banali cioè non è perché le sue idee fossero scomode ma per il modo in cui si comportava che mostrava ancora una volta una voglia di farsi accettare dalla gente che conta perché lui era appunto di umili origini e fu deriso anche dopo la scoperta soprattutto per il dettaglio che racconta che vedremo della moglie che portò il tesoro da lui scoperto avvolto nel suo scialle quindi se non fa se non fu accolto dagli accademici non è perché era scomodo o perché avrebbe messo in discussione qualche presunto dogma ma per motivi molto 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 più posaici quindi va bene abbiamo visto che dei riferimenti a Troia nei suoi diari delle lettere non ci sono prima della sua scoperta non ce ne sono non ci sono tracce del suo incontro col presidente degli Stati Uniti non ci sono tracce nelle fonti indipendenti nel suo incontro col governatore di Panama spesso contraddice se stesso e a contribuire fu alla leggenda alla creazione del mito fu un biografo che lui stesso aveva contrasti col mondo accademico e vide Schliemann un eroe quindi fu lui un po' ad alimentare questo mito di lui che andava contro l'accademia in realtà lui stesso cercava di avere dei titoli accademici comunque l'ha avuto un titolo accademico anche se ha mentito su come l'ha ottenuto però ha avuto un dottorato quindi tra l'altro Schliemann era peraltro tecnicamente un accademico a differenza invece dei suoi emoli finora quindi ciò che ho detto finora non è per fare del semplice pettegolezzo non è per esprimere giudizi sulla persona non è per sminuire la portata delle sue scoperte perché dritto o storto le scoperte le ha fatte ma per porre dubbi sull'attendibilità di alcune delle sue affermazioni autoreferenziali perché si ha mentito su queste questioni sulla cittadinanza sugli incontri con persone importanti come credergli quando senza durre nessuna prova sostiene che per esempio gli strati che ha scoperto corrispondono proprio a quelli della città descritta da Omero come credergli quando dice che per esempio un recipiente di vetro di età romana conteneva le ceneri di Ulisse come facciamo a credergli quando dice che il tesoro ritrovato davvero quello di Priamo e i gioielli sono davvero quelli di Elena come facciamo a credergli quando dice che in Egitto nel 1888 ha trovato una testa di Cleopatra come in realtà aveva sempre detto prima dice mi piacerebbe tanto trovare qualche reperto di Cleopatra e poi arriva in Egitto e guarda caso la trova cioè come facciamo a credergli i visti precedenti ecco poi gli pseudostorici parlano spesso di metodo Schliemann e vabbè quindi vediamo quale sarebbe questo metodo secondo loro è quello di credere nei testi antichi però in realtà vediamo qual è stato veramente il metodo posto in essere da Schliemann stesso allora lui trovato il sito ripeto non per merito suo nel 1870 cominciò a scavare senza richiedere i permessi necessari proprio per la fama di trovare per la voglia di avere fama di ottenere fama tramite questi scavi scavò in modo disordinato confondendo diversi strati nonostante collaborasse con Wilhelm Dorpfeld che è uno dei pionieri del metodo stratigrafico si avvalse di personale non qualificato quindi rendendo quindi molto più facile non solo commettere errori ma anche di falsificare i ritrovamenti e nascondere i ritrovamenti stessi alle autorità turche che pretendevano giustamente un controllo su quello che veniva messo alla luce scavò usando degli esplosivi rovinando così irreparabilmente il sito e molti altri reperti che ormai sono distrutti per sempre quindi io farei le farei attenzione a parlare di metodo Schliemann cioè questo anzi dimostra ancora una volta che le cose vanno fatte veramente con un metodo scientifico e non così alla Carlona per usare un eufemismo ed era evidentemente ansioso di essere accolto dal mondo accademico e quindi inviò i primi risultati presso le memoir dell'Accademia delle Desinscrizioni Belle Lettre quindi la memoria dell'Accademia delle Iscrizioni delle Belle Lettre ma gli accademici si rifiutarono di pubblicare questi studi perché lui stesso confessava di aver commesso degli illeciti cioè di aver scavato senza permesso quindi gli accademici rifiutarono per motivi per non essere parte di questa operazione illegale lui poi pubblicò i risultati altrove il governo ottomano venne a saperlo e diciamo così non l'ha prese esattamente bene e poi trovò diversi reperti però nonostante gli accordi di cederli al governo ottomano li portò in Europa li contrabbandò in Europa quindi la domanda su che ho fatto prima se lui ha mentito su diversi dettagli della sua autobiografia come possiamo credergli quando scrive quando fa i resoconti dei suoi scavi infatti lui racconta di aver trovato tutto il tesoro in una in un posto solo in una sorta di cassa di aver trovato dopo aver mandato gli operai in pausa e che le avrebbe aiutato la moglie che avrebbe nascosto tutto nel suo scialle avrebbero così contrabbandato i ritrovamenti prima fuori dallo scavo e poi fuori dalla Turchia però dalle lettere tra lo stesso Schliemann e la moglie si scopre che la moglie non era lì lei era ad Atene per la morte di suo padre e lei tra l'altro questa è la seconda moglie quindi lui aveva divorziato nel frattempo falsificando i documenti dalla moglie russa e si sposò con questa moglie greca Sofia William Borlase nella Francis Magazine racconta di un suo viaggio agli scavi e delle discrepanze tra cui l'assenza della moglie di Schliemann quindi il fatto che la moglie non ci fosse lì il fatto che Schliemann avesse mentito si sapeva già all'epoca ecco perché tra le altre cose non veniva preso sul serio per cui si sapeva ormai che gli piaceva romanzare molto la sua vita i suoi scavi le sue opere come ho notato prima come ho menzionato prima uno studioso greco ha mostrato che le diverse iscrizioni tra virgolette scoperte da Schliemann lui dice di aver scoperto in realtà erano già note in una lettera tra l'altro dice che era pronto a dichiarare di aver comprato i manufatti del presunto tesoro di Prigamo che li valse le accuse di averlo effettivamente comprato e quindi di non aver trovato in realtà niente ma di aver comprato questi gioielli questo tesoro all'esterno in realtà non ci sono prove che l'abbia fatto quindi è un rimane il punto interrogativo sull'autenticità magari se c'è qualche esperto potrà correggere benvenga insomma e Easton quindi Trail David Trail l'autore del libro su cui mi sono basato per lo più è critico in modo veramente spietato ha scritto diversi libri e articoli su Schliemann proprio per smontare il più possibile dipingendolo in una luce molto molto negativa anche se lui stesso stesso Trail riconosce il talento che aveva Schliemann per le lingue e la velocità con cui riusciva a impararle una quantità di lingue che arriva alla decina nonostante tutto quindi se Trail è critico in modo spietato un altro studioso Easton mostra che molti degli episodi denunciati da Trail possono essere interpretati anche come errori fatti in buona fede quindi in ogni caso comunque sono errori ad esempio considerare come appartenenti a un unico tesoro reperti che sono stati ritrovati in modo sparso per il sito può essere sia frutto di una deliberata mistificazione da parte di Schliemann però può essere dovuto alla sua incompetenza nell'archeologia e tra l'altro la maschera di Agamem non è presente a dei ritocchi maldestri in corrispondenza dei baffi quindi anche lì sono stati avanzati dei dubbi sull'autenticità ora non voglio entrare nel merito se sia un falso la maschera o meno però pare che in realtà ci siano proprio queste la punta dei baffi sia stata artificialmente rivolta all'insù si vede che sono dei a prima vista si vede che sono degli interventi moderni tra l'altro che rispecchiano la moda dell'ottocento però le autorità hanno sempre negato il permesso a David Trail di fare degli studi più approfonditi proprio sull'oggetto in sé quindi non si sa al momento se sia autentico o meno e quindi Schliemann ha diversi tratti in comune con gli pseudostorici per esempio quello di atteggiarsi da accademici pur non avendo neanche le basi del mestiere spesso si trova a dire prima una cosa e poi il suo contrario però poi non non ammette mai di essere a cui manca un pezzo non ammette mai di essersi sbagliato per esempio quando scambia due vasi di bronzo per elmi in realtà poi venne fuori che non erano elmi erano vasi di bronzo però lui non disse mai di essersi sbagliato gli fu negata la pubblicazione per via del suo comportamento scorretto e si lamentava in modo vittimistico di censura di oppressione di dogmatismo e questo l'ho visto fare nel mio piccolo anche con fan della pseudostoria che si sono comportati in modo molto molesto sul mio canale per esempio in un video in cui si parlava di cabalà c'era un tizio che continuava a chiedere di paleostronautica in modo molto insistente l'ho bloccato e lui poi ha detto ah perché quello che dico io è scomodo no magari vedi un attimo magari se ti ho bloccato ci sono altri motivi non è perché quello che dici è scomodo ma stavi oggettivamente dando fastidio stavi disturbando la conversazione che in realtà parlava di altro e questo come altri episodi più recenti su cui ho fatto un video da misteri channel show e quindi si generava l'intolleranza alle critiche lui prendeva le critiche molto molto male e anche questo mi ricorda delle persone che autori di tuttora viventi e poi aveva un'attenzione selettiva nel forzare i dati a favore di ciò che vuole sostenere e ovviamente per esempio dicendo insistendo nel voler vedere nel tesoro di Priamo il tesoro che ha scoperto però in realtà non ci sono prove oggettive che colleghino quel tesoro davvero a Priamo come non ci sono prove oggettive che colleghino quella maschera con Agamennone lo dice lui però ci sono al di là se sia un falso o no fatto sta che non ci sono prove decisive quindi lui ha deciso di aver trovato di mettersi alla ricerca di quei reperti lì e in qualche modo li trova cioè forza le conclusioni in modo da poter dire guardate avevo ragione e ha fatto poi più volte letteralmente carte false sia nella sua vita professionale sia nella sua vita privata e sia nella sua vita diciamo da archeologo ha falsato i rapporti degli scavi era mi sembra ovvio che fosse in cerca di fama fama di essere riconosciuto nel mondo accademico dalla gente che conta che avevo conosciuto appunto la prima volta a San Pietroburgo non si è fatto problemi nel gonfiare i fatti nel mentire nel auto incensarsi soprattutto non contano tanto i fatti ma conta come si raccontano come questi vengono raccontati quindi ha voluto non gli è bastato l'aver scoperto la città di Troia ma ha dovuto anche inventarsi la storia che in realtà lui l'ha sempre cercata lui è sempre stato un sognatore ha sempre voluto farsi valere contro il mondo accademico che l'ha aiutato però verso il quale comunque provava cercava di farsi riconoscere lo studio e la ricerca sono spesso fatti in modo superficiale solo per acquisire merito agli occhi di chi non ha le competenze per giudicare quello che si scrive e quindi ricapitolando Schliemann ha più volte romanzato il racconto degli eventi di cui è stato protagonista addirittura a volte inventandoli di sana pianta non ha scoperto la città perché stava già scavando Calvert prima di lui non ha scoperto il tesoro di Priamo nella tomba di Agamennone non ci sono come ho detto prove schiaccianti per collegare quel tesoro a Priamo o quella maschera ad Agamennone non ha provato affatto che l'Iliade abbia raccontato il vero su tutto biografi di Schliemann per aver preso per vero ciò che è scritto nelle fonti hanno finito con lo sbagliarsi clamorosamente ciò insegna che il contrario di quello che pretendono gli pseudostorici cioè ciò insegna che le fonti vanno sempre analizzate con distacco critico altrimenti si chiama fede non è più scienza e quindi bisogna stare attenti a mitizzare le persone soprattutto se parlano di sé in modo autoreferenziale e soprattutto siano precedenti per truffa come Schliemann come von Lenniken e non esiste il principio di autorità né in un senso né in un altro cioè non è che quello che dici è valido solo perché sei un accademico solo perché hai una laurea o il contrario non è che diventa valido solo perché gli accademici ti danno contro tutto quello che conta ovviamente sono le prove e il metodo usati e quindi gli pseudostorici che usano Schliemann come argomentazione mostra ancora una volta che non hanno delle vere argomentazioni visto che si appigliano a argomentazioni inesistenti l'unico esempio che sanno portare è quello di uno nato ormai duecento anni fa nel 1822 quindi l'unico esempio che sanno fare è quello infatti mi chiedo poi lo vediamo dopo usano la storia di Schliemann per farsi belli di riflesso quindi dicono vabbè allora ha avuto ragione lui e quindi abbiamo ragione anche noi perché non si sa è un pretesto ovviamente per delegittimare il mondo accademico che è dipinto ovviamente come un ostacolo alla ricerca della verità però ovviamente non è andata così abbiamo visto la storia di Schliemann stesso mostra che le cose sono andate in modo molto diverso c'erano già gli accademici prima di lui come ho già mostrato in una diretta tempo fa per ogni campo del sapere esistono centinaia di riviste accademiche che pubblicano sempre nuove scoperte nuove ipotesi ogni mese ogni due mesi ogni tre mesi ma ogni singolo campo decine di riviste ripeto per ogni settore quindi esistono migliaia in tutto di riviste accademiche che innovano continuamente lo stato delle scoperte invece i pseudostorici sono di fatto fermi a teorie ottocentesche sono di fatto fermi all'ottocento loro si presentano come quelli che vorrebbero portare avanti il progresso ma di fatto sono fermi a vecchie teorie ottocentesche anche a come abbiamo visto sia quella della nella bibbia che sarebbe una copia di testi sumeri oppure anche come quello che Schliemann sarebbe un un grande copritore ripetono quindi le stesse cose peraltro sbagliate senza mai approfondire hanno ripetuto e continueranno ci potete scommettere che anche dopo questo video continueranno a ripetere la storia di Schliemann di un grande però non hanno mai approfondito non è mai venuto il dubbio neanche di cercare su wikipedia perché queste cose non così approfonditamente però una base di quello che vi ho detto in questo video si trova tranquillamente facendo una mezza ricerca di un minuto di fatto gli psodostorici non hanno mai scoperto niente questo è un dato di fatto non avendo mai scoperto niente devono per forza brillare di luce riflessa rifacendosi ad altre scoperte inventandosi delle favole su persone che in realtà non ma poi come ho detto come ho detto anche se fosse vero ciò che dicono di Schliemann la favoletta che raccontano di Schliemann intanto c'è una prima fallacia quindi Schliemann ha avuto ragione quindi automaticamente ho ragione pure io e quindi tutti gli alternativi no devi dimostrare tu comprove tu quello che tu stai dicendo adesso se è vero o no devi dimostrarlo tu non devi dire vabbè allora Schliemann ha dimostrato 200 anni fa e io posso anche lavarmene tranquillamente le mani fallacia numero 2 Schliemann ha dimostrato l'esistenza di Troia e quindi tutta l'Iliade direbbe la verità no al massimo ha dimostrato l'esistenza della città ma non ha dimostrato mica la veridicità dei degli eventi o dei personaggi non ha dimostrato l'esistenza degli dei americi ma dei fatti immaginari si possono tranquillamente ambientare in luoghi reali penso non so Dylan Dog o Sherlock Holmes che sono ambientati a Londra allora tra 200 anni uno trova un romanzo di Sherlock Holmes un fumetto di Dylan Dog diceva allora esisteva Londra e quindi sono esistiti anche Dylan Dog e Sherlock Holmes e no non funziona così quindi Schliemann al massimo ha dimostrato anzi quelli che hanno scavato prima di Schliemann hanno dimostrato che Troia esiste davvero ma non hanno mica dimostrato che esistono Zeus Poseidone e compagnia bella e poi viene usato al giorno d'oggi Schliemann per dire che visto che lui ha dimostrato che ha avuto ragione allora ha dimostrato che tutti i testi antichi dicono o potrebbero dire il vero in realtà no al massimo ha dimostrato quella cosa lì su Liliade ma che Liliade abbia ragione mettiamo pure che abbia avuto ragione su tutto ciò non vuol dire che abbia ragione per dire la Bibbia o qualsiasi altro testo antico anche lì ci sono dei salti logici che però vedo che a cui molti abboccano vedo che nessuno si pone si fa delle domande davanti a queste argomentazioni inventate totalmente strampalate e poi soprattutto c'è un paragone improprio perché è un episodio storico di oggi che si paragona a Schliemann sbaglia perché Schliemann comunque le lingue se le studiate invece ho sentito dire delle castronerie non solo in ebraico ma anche in inglese o niente delle robe assurde comunque lui le lingue le ha studiate e lui comunque è andato a scavare gli pseudostorici dal mattino dei maghi in poi quindi da quando è nata secondo me tra virgolette ufficialmente la pseudostoria di fatto non hanno mai scoperto niente sono rimasti a casa loro a scrivere questi libri in cui fanno dei collegamenti a caso ma questa non è ricerca cioè fare ipotesi non è ricerca fare ipotesi è il punto di partenza fare ricerca vuol dire fare ricerca delle prove a sostegno o addirittura che montino queste ipotesi ma io non ho visto nessun opzio storico fare una cosa del genere fare ricerca si limitano a fare ipotesi e scambiano queste ipotesi per ricerca no non è esattamente così infine ecco la bibliografia ho visto a leggere tutti i dati allora purtroppo gran parte di questa bibliografia è in inglese se non in tedesco come le lettere di Schliemann o i diari alcuni diari Schliemann ha scritto anche in francese in inglese come dicevo le sue stesse lettere sono scritte in varie lingue comunque in italiano c'è la traduzione di questo libro che vi ho mostrato prima quello di David Trail su cui mi sono basato che però non è facilmente trovabile è una vecchia lezione del 95 sì comunque degli anni 90 in italiano c'è il libro che ho già citato Loro di Troia la vera storia del tesoro scoperto da Schliemann in Audi uscito nel 96 ringrazio ancora Alex Vannini per avermelo mandato purtroppo anche questo testo è introvabile e quindi ma forse in qualche biblioteca o se doveste consultare potete anche scrivermi un'email a cuscitergosum chiocciola gmail punto com magari vi posso fare una non vi non di tutto il libro però se avete voglia di consultare qualcosa sono a disposizione vi iscrivete un'email vi mando una pagina o due quello che è bene 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 adesso vediamo le domande allora Shabotov Federico Ghioni salve Luke Jones la prima live che si è avviva bene 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 allora salve Berenice Marino salve Alex Vannini grazie vedo adesso grazie ancora per i libri Torbin ah in tedesco gutenabend giustamente perché Schliemann allora Federico Ghioni io direi Erev Tov invece di Laila Tov perché Laila Tov buonanotte Erev Tov buonasera la factotum ciao a tutti scusate se esalto perché vedo che siete parecchie saluto tutti indistintamente nessuno si sente scuso per corte allora un certo Pasquale salve non sono professore sono non ho ancora l'abilitazione quando l'avrò potrò farmi chiamare professore ma in un momento non lo sono comunque buonasera buonasera poi ciao ciao Dario Fabrizio l'ho già salutato allora multivac devo deludere omega clip non parlerò di alieni mi piace allora 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 Roberto C la rivedo dopo buona live se può chiarire quello che diceva l'egittologo circa il sito di trovo eh sì no l'ho già fatto l'ho già fatto e alla fine c'è il dubbio ma non ci sono prove che abbia davvero come si dice salato il sito gli scavi non ci sono prove che abbia fatto c'è il sospetto però un sospetto onor del vero non vuol dire niente però oddio ho visti i precedenti allora Daniele Cerullo il titolo del libro ecco dovrebbe essere ancora visibile in una diapositiva va bene va bene ecco Luke Jones fa un'obiezione giusta il punto è che gli eventi raccontati nell'Iliade richiedono ben più del sito archeologico di Troia come prova per essere creduti giustamente come ho detto io va bene ciao Isa buonasera va bene va bene va bene va bene quindi l'idea eh sì Deidara Akatsuki sì l'idea non era manco sua ma l'aveva ributtata ad altri si aveva fregata agli altri no fregata ributtata all'epoca no perché ripeto c'erano se ne è appropriato dopo perché all'inizio si sapeva quando stava scavando si sapeva che c'erano anche altri prima di lui però poi col tempo quando ormai era diventato famoso a livello mondiale ha cominciato a freebootare come dici tu va bene allora i commenti sono parecchi per non creare un pause di silenzio troppo lunghe se avete delle domande per cortesia se potete ripeterle magari scrivendo domande in maiuscolo così ecco sì Berenice e Marino sono d'accordo con la tua definizione di metodo Schliemann va bene va bene ecco Luke Jones domanda possiamo considerare possiamo considerare la guerra di Troia come più azioni belliche avvenute attorno al XIII-XII secolo è che poi la traduzione orale ha trasformato in un unico conflitto decennale potrebbe però ripeto io mi vorrei essere potente nel fare qua siamo abbastanza fuori dal mio campo quindi vorrei evitare di dire corbellerie teoricamente cioè in linea di principio è possibile se sia andata davvero così non lo so uno specialista potrebbe rispondere meglio di me allora Pasquale chiede io non ho ben capito cosa abbia realmente scoperto Schliemann è una bella domanda ha scoperto ha scoperto degli edifici ha scoperto delle tracce di insediamenti insomma quello che ha portato alla luce diversi reperti che questi reperti siano davvero riferibili all'Iliade è un altro paio di maniche come ho già detto però ha portato alla luce diversi reperti mentre altri che stavano scavando prima di lui non erano ancora riusciti a fare una cosa del genere forse perché non usavano gli esplosivi la butto così allora Isa chiede cosa si sa adesso degli scavi novità sicuramente sono stati fatti ulteriori scavi da allora so che sono visitabili c'è un sito turistico so che nel frattempo ecco questo lo so molti hanno messo in discussione altre cose di Schliemann cioè molti stanno discutendo se quello che ha scoperto sia davvero Troia o no perché alla fine chi ci dice che sia quella la città di cui parlo mero so che stanno discutendo su quello ripeto è una questione solo degli ultimi decenni in cui gli archeologi gli studiosi stanno si sono accorti che Schliemann non è esattamente affidabile quindi adesso bisogna per chi sta rivedendo veramente tutto a cominciare da Devil Trail allora nel frattempo torniamo alla visione visualizzazione male allora Federico Ghioni domanda ha letto l'articolo in merito di valigia blu ah ho dimenticato no non l'ho letto ammetto di aspetta oppure mi rinfresco cortesemente la memoria su cos'era quell'articolo perché se era su Schliemann no su Schliemann non mi pare di aver letto articoli su valigia blu se mi rinfresco la memoria su cos'era Waco Dolan alla fine questa benetta città è stata scoperta o no si come ho detto come ho detto però so che ci sono delle discussioni in merito però non essendo archeologo non mi sento in grado di poter dire per parlare con certezza come dicevo questo lo scopo di questa live è mostrare l'uso e l'abuso della storia di Schliemann fatta dagli pseudostorici che si mostrano ancora una volta superficiali che hanno mostrato che non c'è di ripetere le cose in modo acritico senza approfondire Pasquale comunque l'ho dato il prof per ricordo dei nostri amici non lo sapevo non lo sapevo non avevo colto la battuta allora il fatto che mi pare non esistano prove concrete di un unico conflitto che non deve essere si in effetti come dice giustamente Bernice Marino è facile che in un periodo in quel periodo non ci fossero guerre tra Polis in questa situazione Arbin stanno ritrovando e riattaccando i pezzi delle parti degli esplosivi di Schliemann va bene va bene intanto grazie per per l'attenzione per aver resistito fino fino ad ora spero di fare video più una certa frequenza insomma al minimo allora minimo uno al mese ormai è già febbraio quasi finito non so se riesco a farlo 27 non lo so però spero di riuscire a fare almeno un video al mese questo qui come ho già detto mi ha preso molto più tempo qui appunto sono andato a verificare le fonti a prendere le lettere a farmi arrivare l'epistolario puoi andare a verificare se quello che diceva david trail fosse vero oppure no anche lì bisogna stare attenti non è che ti fidi di uno solo perché è un accademico perché ho notato effettivamente un tono non un tono un tono no il tono è stato sempre non è mai scaduto nel personale però il quadro che ne dipinge trail di Schliemann è veramente veramente negativo che veramente mi ha fatto sospettare vediamo magari sta esagerando in realtà ho visto quando sono riuscito a verificare in effetti ho trovato i riscontri di quello che dice lui proprio vedendo quello che scrive lo stesso Schliemann le uniche cose che non sono riuscito a verificare sono l'articolo scritto in greco in greco moderno da quello studioso che ha mostrato che le iscrizioni di Schliemann dice di aver scoperto erano già conosciute e l'articolo del Guardian di Frank Calvert che è quello che stava scavando prima di Schliemann che racconta la sua versione dei fatti era dietro paywall e francamente dovevo dare la carta di credito era un sito di cui non mi fidavo e sinceramente ho preferito non rischiare ehi ciao biliardi ciao Stefano ciao Stefano grazie per i complimenti benedici marino volcatolan giustamente i giusti hanno trovato il talone di Achille però purtroppo devo dire caro Waco che non serve a tutti ci staranno quelli che anche dopo aver visto questo video diranno eh ma ormai dopo anni che faccio quasi tre ormai andiamo per i tre anni su youtube se contiamo il blog sono ormai quasi cinque quindi dopo anni di discussioni con i episodio storici non mi faccio più illusione grazie per i complimenti Pasquale la cosa più bella è che ogni volta che fa un video gli episodio storici prendono mazzate purtroppo però come ho già detto mazzate virtuali chiaramente allora Pasquale dice Daniele Cerullo io avrei tradotto letteralmente le sue lettere che è un po' quello che ho fatto io ah tu dici con google può essere sarebbe stato comunque il buon Lovecraft dice Factotum usava archeologi fuori dal comune nelle sue storie ma non di lettanti sempre accade ciao con chi l'hai se hai commentato prima mi sono sfuggito i tuoi commenti mai rischiare a dare la carta nei siti dubbi esatto esatto magari il sito era affidabile però ho preferito non rischiare va bene va bene va bene allora delle anticipazioni delle anticipazioni ci sarà un video non so quando lo farò perché anche lì dovrò documentarmi ho diversi libri da leggere però sarà su Sigmund Freud l'ebraismo e la pseudostoria però ripeto ho diversi libri anche qui siccome stiamo uscendo abbastanza fuori dal mio campo non tanto in questione degli studi ebraici ma Freud è nato insomma è troppo recente per i miei gusti diciamo così per quello di cui mi occupo quindi dovrei entro veramente in un campo totalmente nuovo per me però siccome Freud ha scritto anche di pseudostoria ha fatto della pseudostoria allora vorrei analizzare la pseudostoria di Freud il rapporto che aveva sia con l'ebraismo sia con la poi ne avrei un paio sulla paleoastronautica questi li posso fare non voglio dare date però li posso fare molto molto più brevemente non richiedono grosse preparazioni uno sulla credibilità della paleoastronautica perché l'ennesimo fan della paleoastronautica che mi ha detto eh ma è sempre quello che dice è sempre meno credibile della paleoastronautica allora ok adesso vediamo vediamo la credibilità della paleoastronautica quale e tra l'altro era sotto il video che ho fatto da osa sapere in cui ho mostrato proprio i dizionari le grammatiche di ebraico che che smontano totalmente certe interpretazioni che ne danno dei professori presunti professori e questo evidentemente non era credibile va bene eh Federico Ghioni e Freud con la Kippa ne parleremo aveva veramente un rapporto ambiguo con con l'ebraismo aveva un rapporto a dir poco ambiguo e dovrò indagare appunto perché veramente voglio evitare di dire castrologie una settimana mi piacerebbe caro Waco e anche Pasquale che lo diceva prima mi piacerebbe fare una live a settimana è un obiettivo a cui punto sinceramente però ecco questo qua avrei voluto farlo a dicembre poi io mi occupo di di questi argomenti insomma preparo i video mi occupo di divulgazione nel fine settimana quindi durante la settimana ovviamente mi occupo di quello per cui io non posso neanche dire che mi paga comunque mi occupo delle mie ricerche mi occupo di questo nel tempo libero quindi i tempi sono quelli che sono quelle appunto finché sono live sulla pseudostory sulla paleoastronautica quelle veramente le potrei fare però non voglio neanche fare le potrei fare con una certa frequenza intendo però poi per neanche pensarmi troppo però però sì dai mi piacerebbe quando qui punto allora Daniele Cerullo tendono lavoro sicuramente saranno impeccabili con la video grazie Antonio Barros sarebbe bello vedere ancora il professor tiradritti mi piacerebbe anzi spoiler ormai poi spoiler sarebbe dovuto quando ci siamo sentiti ormai l'anno scorso nel 2021 eravamo rimasti che avremmo fatto una live proprio a febbraio proprio in questi giorni sul su Tutankham varie bagianate sulle varie bagianate che sono nate sulla leggenda di Tutankham purtroppo non è stato possibile farlo in occasione dell'anniversario però si tornerà tornerà è stato un ospite molto molto gradito come anche il professor botta è stato richiesto da molti in cui abbiamo parlato di Aztechi Maia Stefano lo stesso Stefano Bigliardi se vorrà ritornare lo stesso Cercarelli abbiamo un sacco di ospiti che vorrebbero tornare cioè che vorrebbero che sono stati richiesti dal pubblico e che a me farebbe molto piacere riavere eccolo qua Bigliardi Bigliardi si offre per un monografico su Colosimo e o Paragone Colosimo e Charru quando diventerò professore vi abbandonerò non è detto perché allora senza che vi sto a raccontare però potrei comunque avere l'abilitazione professore è continuare cioè non è detto che una volta avuta l'abilitazione professore posso avrò automaticamente una cattedra da qualche parte poi dovrò fare domanda vedere i bandi e fare domanda e vedere dove mi prenderanno se mi prenderanno dove mi prenderanno però no non è che appena quindi non sarà automatico appena avrò la nomina professore non è non è la mia intenzione attenzione dice Federico che Ioni non era ho detto immagina mi piace immaginare quella che fa chissà fosse in privato vedremo se questa immaginazione aveva un fondo di verità poi no dottore chiede Daniele Cerullo un video sulla figura di Mosè sarebbe fattibile vabbè ne parlerò quando parlerò di Freud perché la pseudo storia che ha fatto Freud è proprio sulla figura di Mosè quindi spoiler ne parlerò in un prossimo video quando sarà quello su Freud però intanto prima di quello di Freud un paio sulla parola astronautica uno sulla credibilità e uno sui dogmi va bene va bene va bene grazie a voi per la presenza grazie per l'attenzione vediamo prossimamente nelle prossime settimane non dico quella prossima però nelle prossime sicuramente poi visto che adesso sono tornati sono tornati come dice in azione agli amici di wannabe buddha chissà magari potrei comparire anche da loro ospite e Arbin sì sì fochino parente no ma fochino quindi chissà chissà buonasera da tutti e rest of a tutti buonasera alla prossima buonasera buonasera a tutti sì 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 Grazie.